Serena Palladino, le prime emozioni della Soeggiù si sono vissute già con la presentazione, c'è fermento ormai perché il 15 novembre si avvicina a 42 anni di una gara podistica alla fine semplicissima anche. Sì, è una vigilia abbastanza lunga perché iniziamo a preparare la gara da diversi mesi e una volta dato il via alla presentazione siamo sul rettilineo d'arrivo, quindi preparativi, le strisce, le bandiere per il corso, è un'emozione che dura fino al giorno della gara. Quest'anno si farà il 15 novembre, l'hai già detto, siamo pronti, siamo emozionati come tutti gli anni, sono 42 candeline che significa una storia lunga che si ripete cercando di raccontare quello che siamo senza perdere di vista quello che ci piace che la Soeggiù rappresenti per Campobasso, per la città, per la gente che partecipa. La Soeggiù è diventata ormai una tradizione sportiva molisana e proprio la tradizione è il tema di quest'anno, tante le novità anche proprio il giorno della gara dove ci saranno tante manifestazioni culturali che in quell'occasione o in maniera del tutto eccezionale comunque verranno presentate anche in piazza Campobasso. Sui sentieri del tempo, sì, è il tema della Soeggiù di quest'anno, abbiamo cercato di raccogliere quelle che sono le nostre storie, il folklore, le tradizioni, quello che rappresenta il passato, che è un po' la scia che ci ha preceduto per realizzare una manifestazione all'insegna delle nostre tradizioni molisane raccogliendo insomma quello che è stata la partecipazione anche degli eventi più importanti e più rappresentativi. C'è tanto lavoro alle spalle però anche il piacere proprio di organizzare questa manifestazione? C'è il piacere di organizzare la Soeggiù che è una creatura della Virtus per cui c'è l'impegno di tutti i volontari, degli atleti, chiaramente del direttivo quindi di tutti i dirigenti e poi c'è il sostegno di una parte importante che viene dagli sponsor che fanno il tifo per noi e che il 15 novembre si sono messi in prima fila per supportare l'organizzazione di questo evento che è bellissimo ma è anche faticoso.